Il mio obiettivo non era ottenere un accordo sui ricollocamenti. Tutto quello che avevo visto nei giorni e nelle settimane passate mi diceva che sarebbe stato prematuro avere un accordo per noi conveniente. È chiaro che è possibile avere un accordo in ogni istante, ma deve essere un accordo che abbia della convenienza che sia nell'interesse italiano. Secondo punto, questo accordo comunque non può essere basato su una redistribuzione obbligatoria, ricollocamento obbligatorio dei migranti perché non sarebbe accettato al momento. Per cui sarebbe un accordo in ogni caso di tipo bilaterale o trilaterale e di questo stiamo parlando e continuiamo. Oggi l'obiettivo era quello di ottenere un coinvolgimento significativo, massiccio dell'Unione Europea nelle zone nel Nord Africa e nel Centro Africa e nelle zone che manifestano instabilità. Quindi non solo nei confronti della Turchia, ma anche nei confronti di questi paesi. Primo tra tutti ovviamente la Libia. Il testo ottenuto e molto ottenuto, il testo concordato con tutti gli altri partner è da questo punto di vista molto impegnativo. E ora guardi, scorro rapidamente alcuni passi di questo. Per prevenire la perdita della vita e ridurre la pressione sui confini europei saranno stabilite delle partnerships e la cooperazione con i paesi di origine di transito. La politica dell'Unione Europea deve essere indirizzata a tutte le rotte migratorie, il che vuol dire esplicitamente includere quelle che non sono incluse oggi e cioè quelle che a noi interessano di più. Deve essere basata su un approccio complessivo che affronti le cause alla base della migrazione, che sostenga i rifugiati e le persone senza una base nella regione, che costruisca la capacità in questi paesi per la gestione della migrazione, che combatta e sradichi il fenomeno del contrabbando di esseri umani, che rinforzi i controlli al confine, che cooperi sui processi di search and rescue, che affronti la migrazione legale, pur nel rispetto delle competenze nazionali, come anche assicuri il ritorno e la riammissione. Quindi il Consiglio poi invita la Commissione, l'alto rappresentante delle Nazioni Unite, a rinforzare immediatamente con azioni concrete e con tangibili sostegni tutti questi impegni e poi a presentare un piano di azione per i paesi di origine a priorità più alta entro l'autunno di quest'anno. Infine, il Consiglio europeo condanna e rifiuta ogni tentativo da parte dei paesi terzi di strumentalizzare i migranti per ragioni politiche. Quindi l'impegno è molto significativo, molto forte, ed è sulla dimensione, cioè la dimensione esterna dell'Unione, che oggi trova l'accordo di tutti. Grazie a tutti.